Grazie a tutti. Che danno la Chiesa universale sul fronte sia pastorale ma anche culturale. Quindi ho accettato con buon grado il vostro invito di svolgere questa sera una riflessione su un tema il quale devo subito precisare il senso. In altre parole, qual è il nesso tra attività economica e vita religiosa? Non è forse qualcuno potrebbe dire un nesso inesistente dal momento che la vita religiosa deve occuparsi oltre che della preghiera di attività, chiamiamola pedagogico, pastorale nei confronti dei giovani, dei meno giovani. Perché mai suore di una congregazione come San Paolo, Paoline, si devono occupare di economia? La domanda ovviamente non è peregrina, ha un fondamento. Perché è vero che negli ultimi decenni, nelle nostre società, non solo italiane, ma lo stesso discorso vale anche per altri paesi, è accaduto che alla vita religiosa sia stata assegnata le funzioni che ho ricordato. Però dobbiamo sapere che così non è mai stato in passato. Nel passato, che vuol dire fino, direi, agli inizi del 1900, quindi poco meno di un secolo fa, la vita religiosa ha sempre sviluppato una sua propria attività economica. Ma pensiamo ai grandi santi, a cominciare da Benedetto. Ma Benedetto da Norcia, nel IV secolo d.C., nel momento storico difficilissimo, era accaduto l'impero romano, l'impero più lungo e più potente di tutti i tempi precedenti, eppure cade. Tutti si erano, come dire, rassegnati ad una sorta di involuzione. Viene fuori Benedetto che lancia il suo motto, ora et lavora, prega e lavora. Noi forse superficialmente non diamo importanza a queste parole, ma badate che è stata una frase rivoluzionaria, perché mettere la preghiera sullo stesso piano del lavoro, ora et lavora, vuol dire prega e lavora, che vuol dire che mentre si lavora si può pregare e mentre si prega si svolge un lavoro. Ed è grazie a questo motto e soprattutto alla istituzione dei monasteri che inizia quella nuova stagione, che è la stagione cosiddetta l'età delle cattedrali. Ed è per questo che Benedetto da Norcia è stato considerato, dichiarato il patrono dell'Europa, giustamente. Perché se non ci fosse stato Benedetto noi non saremmo qua neppure a parlare, perché la gente si era lasciata andare. Poi facciamo un salto di secoli, viene fuori un'altra figura che è Francesco. Ma pensate al ruolo che ha avuto Francesco. Francesco, voi sapete che prima della conversione, era un imprenditore, un imprenditore di grande successo, di grande successo, un mercante. E con suo padre riusciva molto bene negli affari. Poi ha l'illuminazione, si spoglia di tutto, si converte, ma mantiene però la mentalità imprenditoriale. Questo è bene che si sappia. Ed è questa la ragione per cui la scuola di pensiero francescana è stata la prima grande scuola di pensiero economico. Ed è ai francescani che si devono le opere che oggi caratterizzano quella che si chiama l'economia di mercato. Chi ha fondato le prime banche? I francescani. La prima banca a Perugia nel 1462 e si chiamava Monti di Pietà. Cos'erano i Monti di Pietà? I Monti di Pietà erano banche che consentivano alle persone bisognose di credito di uscire dalle grinzie di chi? Degli usurai. Perché allora, quando avevi bisogno di soldi, dovevi mettere nelle mani dell'usuraio. E l'usuraio ti strangolava in senso proprio, in senso non figurato. E quindi i francescani capiscono che se si vuole aiutare realmente la gente, non li si aiuta con le parole o dicendo abbiate pazienza, eccetera. Creano questa istituzione, le banche, i Monti di Pietà, che tolgono l'erba sui piedi e gli usurai. Perché da quel momento le famiglie, i contadini, negli artigiani che avevano bisogno di credito, si rivolgono al banco e ottengono senza dover pagare quegli interessi usurari di cui sappiamo. Pensate ai Monti Frumentari. I Monti Frumentari anticipavano la semente a ottobre per la semina, perché i contadini poveri non avevano i soldi e allora dovevano chiedergli ai usurai. L'usuraio cosa faceva? Ti le prestava, però pretendeva il raccolto. E quindi i contadini rimanevano sempre più poveri. Ecco allora che nascono i Monti Frumentari che anticipano la semente, al momento del raccolto restituiscono, ma la restituiscono in maniera tale che alla famiglia contadina rimanga il necessario per vivere. Infine, pensate al Monte dei Matrimoni. Questo per voi che siete suore interessa ancora di più. A Bologna c'è ancora il Monte dei Matrimoni. Se voi andate in via Altabella lo trovate. Ovviamente non funziona più. E che cosa serviva il Monte dei Matrimoni? A quell'epoca le ragazze che volevano sposarsi, se non avevano i soldi per comprarsi la dote, non potevano sposarsi. E quindi succedeva che diventavano o rimanevano zitelle, come si dice, o rimanevano schiave. Serve. I francescani, per liberare la donna, perché i francescani sono sempre stati a favore delle donne, non dimenticatelo mai, non dimenticatelo mai. Pensate al rapporto tra San Francesco e Santa Chiara. Inventano il Monte dei Matrimoni. La ragazza andava al monte, anticipava questi, comprava la dote, si sposava e sull'arco di 10 o 15 anni successivi restituiva a rate. Ma attenzione, attenzione, doveva restituire con i soldi da lei guadagnati, non con i soldi del marito o dei genitori. Voi direte, e perché? Provate a pensarci. Provate a pensare. È una cosa straordinaria. Perché dicevano i francescani, se tu donna restituisci i soldi che hai preso preso. Con i soldi del marito non sarai mai libera, perché il marito ti sottometterà. Se tu invece, con i tuoi soldi, che vuol dire lavori, sarai libera. Ecco allora perché dove c'erano i monti dei matrimoni, ancora oggi, voi vedete che le donne, oltre a curare la famiglia e i figli, lavoravano. Ad esempio, nell'Emilia Romagna, il tasso di partecipazione al lavoro delle donne è come quello della Svezia, eccetera. Dove non c'erano i monti di matrimoni, le donne rimanevano in casa, sostanzialmente a essere serve. E così via con tante altre istituzioni. Quindi la scuola francescana dà all'economia una, come dire, considerazione. Perché? Perché con l'economia bisogna liberare le persone dal bisogno. Perché la salvezza cristiana deve essere accettata. Noi per salvarci dobbiamo accettare il dono che ci viene fatto. Ma per accettare il dono della salvezza dobbiamo essere liberi. Se uno non è libero perché è affamato, ammalato, ignorante, eccetera, ha difficoltà ad accettare il messaggio di salvezza. Ecco allora perché i francescani sono andati avanti su questa linea. E così andando avanti tanti altri. Pensate anche a Don Bosco. Don Bosco, fondatore dei saliziani. Don Bosco lo sapete benissimo. Pensate al vostro fondatore che ha avuto esattamente. Lui aveva questo carisma per l'aspetto culturale, per la diffusione a livello propriamente culturale del messaggio cristiano e così via. Quindi primo punto è parlare del nesso tra economia e vita religiosa vuol dire dire le cose col proprio nome. E quindi bisogna dirlo con le buone maniere a tanti nostri confratelli che tendono invece a separare. E perché a separare? Perché ad un certo punto si è cominciato a dire che è il mondo capitalistico o lo Stato che deve pensare a produrre. La vita religiosa deve occuparsi della preghiera, ritiri spirituali, di fare formazione, un po' di educazione ai bambini, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo. Ma questo è un errore gravissimo perché non è mai stato così. E chi ragiona così tradisce la storia della nostra Chiesa. Detto questo allora, passiamo al secondo punto. La novità dell'economia di Francesco. Allora, anzitutto si tratta di un evento straordinario. Non era mai successo in duemila anni di storia della Chiesa, duemila anni, un evento del genere. La Chiesa ha sempre fatto riunioni per discutere di temi filosofici, pastorali, teologici. Ma mai? Per occuparsi di economia. E per di più, chiamando giovani al di sotto dei 35 anni, da 120 paesi, oltre duemila giovani, da un anno hanno lavorato per arrivare alle conclusioni che sono state presentate lo scorso mese di novembre ad Assisi, ovviamente, da remoto per le note e ragioni. E allora il punto è perché Papa Francesco ha voluto questo? Perché ha voluto in duemila anni realizzare un evento di questo tipo? Perché in duemila anni sono tanti. Non si era mai visto. C'era la gioventù, gli incontri della gioventù, ma quelli erano all'insegna di un momento di allegria. Qui invece il Papa ha detto io voglio giovani al di sotto dei 35 anni che siano giovani economisti in carriera e giovani imprenditori. C'è gente che ha le mani in pasta. Ecco il punto. Perché l'attuale modo di organizzare l'attività economica a livello globale, a livello mondiale, non è più sostenibile. Non è sostenibile dal punto di vista ecologico, e questo ormai l'abbiamo capito tutti. Ma non è neanche sostenibile dal punto di vista spirituale. Perché è un modello di sviluppo, quello attuale, che contro l'uomo, opera contro l'uomo. L'organizzazione del lavoro di tipo tayloristico è tale da offendere la dignità della persona. E' vero che questo modello di sviluppo ha aumentato enormemente la capacità di produzione di beni e servizi. Questo è vero. E' vero che è aumentata la ricchezza. Però è aumentata in maniera talmente diseguale da essere offensiva. Cioè a dire, negli ultimi quarant'anni circa, le diseguaglianze tra paesi e all'interno degli stessi paesi sono aumentate in una maniera, a dir poco, scandalosa. Quando noi leggiamo dalle statistiche che l'1% della popolazione mondiale ha nelle proprie mani una ricchezza pari al 99%, e qui c'è poco da discutere. Quando veniamo a sapere che i 500 uomini più ricchi del mondo, 500, solo 500, hanno una ricchezza stimata di 7 bilioni di dollari, un bilione è mille miliardi. Quindi voi provate a immaginare quanto sono 7 bilioni per 500 persone. Voi capite che siamo di fronte ad una situazione non più sostenibile socialmente, oltre che civilmente. Ecco allora perché il Papa si è mosso in questa direzione. Perché voi sapete che l'impianto, direi, teoretico e filosofico di Papa Francesco è l'impianto del realismo storico. Si chiama così in filosofia, in teologia. Realismo storico vuol dire che il Papa interpreta il proprio ruolo non solamente nel senso di chi annuncia la parola e la spiega, ma anche nel senso di far discendere dalla parola delle implicazioni pratiche. In altre parole, il Papa dice che non basta denunciare le cose che non vanno. Questo l'avranno fatto anche i suoi predecessori. Bisogna fare un passo avanti, avere il coraggio, osare di indicare le linee lungo le quali l'umanità deve muoversi per correggere le sue deviazioni e i suoi errori fondamentali. E questa è una grossa novità, come voi sapete, che attira questo Papa, gliene dicono, di tutti i colori, critiche di tutti i tipi, parole di tutti i tipi. Secondo voi perché? Perché se lui si limitasse ad enunciare e spiegare i principi della dottrina sociale della Chiesa, non succederebbe niente, sarebbero tutti contenti. Ma lui no, non si ferma, va oltre e dice, allora bisogna fare 1, 2, 3, 4 e questo sta dando fastidio. Ad esempio, quando il Papa dice, la finanza attuale è troppo speculativa, bisogna chiudere i paradisi fiscali. Voi sapete cosa sono i paradisi fiscali? Ed è chiaro che questo dà fastidio a chi? A tutti quelli che hanno tanti soldi nei paradisi fiscali, perché se li si chiude, capite da soli le implicazioni. E così via con tanti altri esempi. Ecco allora la caratteristica di questo pontificato, che non è solo quello di denunciare le cose errate che si vedono e di ribadire i principi fondativi della dottrina sociale della Chiesa, ma è anche quello di fare un passo avanti. Prendete l'ultima enciclica, fratelli tutti, ma vi rendete conto che nel capitolo quinto, il capitolo quinto è intitolato La migliore politica. Politica. Da quando in un enciclica un pontefice dice bisogna rinnovare la politica, perché la politica non può continuare a essere serva dell'economia, deve riacquistare la sua dignità e la sua funzione. E qual è la sua funzione? Il bene comune. E quindi dice bisogna che chi si occupa di politica si assuma la propria responsabilità in questo senso. Quindi vedete che c'è una linea di pensiero che attraversa anche gli ultimi pontificati. E a questo riguardo un riferimento importante è quello di Giovanni Paolo II. Perché Giovanni Paolo II nell'enciclica Sollecitud o rei socialis del 1987 introduce un concetto che è rimasto fondamentale. E qual è? Il concetto di struttura di peccato. Questo ci ha voluto il coraggio di Giovanni Paolo II. Cioè Giovanni Paolo II dice guardate se le cose vanno male, se ci sono le ingiustizie, le cattiverie, non è solo perché i singoli uomini, le singole persone sono cattive. Anche questo. Ma è perché ci sono delle regole del gioco, che sarebbero le strutture, che sono peccaminose. Cioè delle regole del gioco sbagliate. E quindi se la regola del gioco è sbagliata, è chiaro che le deriva il male. Quindi l'invito è a cambiare le strutture di peccato. E non limitarsi semplicemente a, avete capito, a fare prediche alla gente dicendo fatti buoni, fatti bravi. Questo è chiaro che va fatto, ma non basta, non basta. Bisogna arrivare a cambiare appunto le regole del gioco, le strutture di peccato. E allora nel caso dell'economia di Francesco, quali sono queste regole del gioco? Uno, l'ho già detto, la finanza. La finanza speculativa deve radicalmente cambiare. Perché è un'attività economica che è contro la natura ed è contro l'uomo. Secondo, deve cambiare il modello di produzione. Cioè dire, non si può andare avanti con un modello di produzione lineare. Bisogna che diventi circolare, la cosiddetta economia circolare. Perché? Perché il modello lineare di produzione ha distrutto e sta distruggendo l'ambiente. Voi sapete quello che succede, non c'è bisogno di essere esperti per vedere quello che è sotto gli occhi di tutti, sotto i nostri occhi. E quindi è la trasformazione economica, il passaggio dalle energie fossili alle energie cosiddette naturali, vento, l'aria, eccetera, l'acqua e così via. Terzo, bisogna cambiare, attenzione, il modello culturale. E cioè bisogna avvertire in primis e poi attuare in secondis il cosiddetto modello neoconsumista. E guardate che il modello neoconsumista è subdolo, perché non appare come tale. Qual è l'idea del modello consumista? Che tu, persona umana, esisti e sei per quel che consumi. In latino si dice homo consumans. Cioè dire, la mia identità è definita da quel che consumi. E più consumo, più io sono. Ma voi capite che consumare di più vuol dire distruggere di più l'ambiente. Vuol dire aumentare le ingiustizie. Perché è chiaro che non tutti possono consumare di più. Quindi ecco la modificazione del piano culturale. Che vuol dire anche incidere sugli stili di vita. Gli stili di vita che noi usiamo sono basati sulla logica dello spreco. E lo spreco è sotto gli occhi di tutti. Noi sprechiamo una montagna. Pensate al cibo. Ma voi lo sapete che con il cibo che viene distrutto, distrutto, potremmo sfamare circa 300-400 milioni di persone soltanto utilizzando, riciclandolo, il cibo che viene scartato. Ma si può continuare a distruggere il cibo e dall'altro avere circa 800 milioni di persone affamate? Se non è questa una, come dire, vergogna, non so cos'altro si potrebbe dire. Quarto, bisogna trasformare, attenzione, il comparto scolastico universitario. Cioè bisogna che la scuola e l'università, quindi tutto, tornino ad essere luoghi di educazione. Voi direte perché? No, che non è così. La scuola e l'università sono luoghi di istruzione, non di educazione. E voi sapete che l'educazione è il contrario dell'istruzione. Con l'istruzione si mette dentro la testa dell'allievo, dell'allieva, nozioni, considerazioni, le varie materie. Ma con l'educazione si fa l'operazione contraria, perché educere in latino vuol dire tirare fuori. Quindi con l'istruzione io metto dentro, con l'educazione io tiro fuori. E questo, il Papa dice, non è possibile. Voi ricordate, il 15 ottobre di quest'anno ha lanciato il patto globale sull'educazione e dice questo. Bisogna che le nostre scuole, a cominciare da quelle cattoliche, qui ha toccato un punto. Perché nel mondo dovete sapere, cari amici e suori, che ci sono 1700 università cattoliche, 1700, tante, ma non fanno educazione, si limitano a fare istruzione, la fanno bene. E il Papa dice, ma allora perché vi chiamate cattoliche? Se vi limitate a fare una buona istruzione? Allora ci sono anche le altre scuole. Un'università cattolica ha senso se mentre istruisce educa. E voi capite che la prima forma di educazione è l'educazione alle virtù, alla pratica delle virtù. Questo è il punto. Ecco quindi le cose che vanno cambiate. Come vedete, l'argomento del Papa è molto ampio, non si limita soltanto all'aspetto produttivistico, ma riguarda anche queste altre dimensioni. Infine, una quinta trasformazione che occorre attuare, dice il Papa, è quella di rimettere in ordine il principio di democrazia. Perché oggi nel mondo la democrazia non è più quella autentica. Quella che noi chiamiamo democrazia in effetti è al servizio del potere economico. È così, altroché storia. Oggi sono le grandi, diciamo, imprese, potenti imprese, pensate alla high tech, cioè quelli che operano nelle alte tecnologie del digitale, che hanno un potere di condizionamento sulla politica che voi neppure vi immaginate. Perché sono così potenti, sono capaci di ricattare i governi e dire, se voi non fate quello che vi diciamo, allora noi minacciamo di fare questo, quest'altro e così via. e molti governi devono chinare il capo e accettare la scatola chiusa. Ecco quindi capite che la tesi del Papa è rimettere la politica al di sopra dell'economia. Non può essere che la democrazia è al servizio del mercato. Deve essere il contrario. Il mercato deve essere al servizio della democrazia. Quindi come voi vedete, queste, ce ne sono altre, ma queste cinque linee di intervento sono di una straordinaria rilevanza. Perché sono linee di intervento pratiche, possibili. Nessuno può dire ah, non si può realizzare. Chi l'ha detto? Però bisogna volerlo e bisogna avere la, come dire, delicatezza d'animo di smettere di fare i doppi giochi, di fare gli ipocriti, che a livello di principi ci dichiariamo tutti fratelli, eccetera. Poi, nella nostra azione concreta, ci comportiamo in maniera geometralmente opposta. A questo punto, l'ultimo punto che intendo trattare, poi così ci sarà spazio per le vostre interventi, osservazioni, considerazioni, domande, quello che volete, è questo. ma una prospettiva di questo genere è utopia o può essere realizzata? Molti dicono sì, bello questo discorso, bello questa enfatizzazione, però sappiamo com'è questo mondo e quindi le cose andranno avanti come sempre. Chi ragiona così sbaglia. Primo, perché chi ragiona così vuol dire che non conosce i fondamenti della teologia cristiana e a volte a me dà fastidio che a tenere questa linea siano anche persone che di teologia dovrebbero intendersi, perché voi sapete che la concezione cristiana del tempo non è quella del cronos, ma è quella del kairos. Cronos vuol dire cronometro. Il cristiano non ha una concezione circolare del tempo, ma ha una concezione del tempo come una spirale che va verso l'alto. Cioè, noi sappiamo che su questa terra non realizzeremo mai il paradiso terrestre. Però questo non significa che non si possa migliorare, anzi, noi dobbiamo operare per migliorare. Rimarranno sempre zone nere, rimarranno sempre aree di peccato, ma questo non ci legittima dal dire accontentiamoci della situazione attuale. Quindi, chi parla di utopia dimostra di non capire che il messaggio cristiano è un messaggio evolutivo. Perché? Perché la religione cristiana è una religione incarnata nella carne di una persona che si chiamava Gesù. e non è una religione incartata, non è una religione la nostra che è nella carta, come per altre, non te li che faccia nomi, ma voi lo sapete, è una religione incarnata e se è incarnata la carne evolve. Noi, quando eravamo bambini, non avevamo le stesse fattezze di adesso, che siamo adulti. Cosa vuol dire questo? Che col passare del tempo mutano le situazioni. Allora è evidente che il cristiano che è nella storia deve immaginarsi come adattare le nuove circostanze, i principi che sono sempre gli stessi della dottrina cristiana, ma che devono essere applicati a seconda delle circostanze. Quindi ecco perché non possiamo rassegnarci a quello che è attorno a noi. Dobbiamo necessariamente pensare che un cambiamento radicale è possibile, ma perché questo avvenga bisogna esserne consapevoli. Primo bisogna saperlo, secondo capire perché è possibile, perché per realizzare quelle cinque trasformazioni di cui ho fatto parola poc'anzi, non è che ci voglia come dire risorse, soldi, anzi si risparmierebbero, ci vuole la volontà e voi direte per arrivare a questa volontà che cosa ci è di aiuto? Ci è di aiuto una duplice battaglia, la battaglia contro l'individualismo, l'individualismo libertario. Ecco perché la vita religiosa è importante, perché in questo momento storico è come un simbolo, perché voi incarnate nelle vostre strutture, nei vostri ambiti di vita un principio basicamente comunitario. Il principio comunitario è anti-individualistico. Voi sapete che l'individualismo libertario è quella corrente di pensiero che dice ognuno deve fare quel che vuole, ognuno deve fare quel che crede e lo slogan dell'individualismo libertario è il latino volo ergo summa che vuol dire io voglio dunque sono, cioè io sono quel che voglio. Come voi sapete questo è molto diffuso tra i giovani di oggi e i quali lo applicano persino alla vita religiosa. Oggi i giovani io che ci vivo in mezzo perché insegno all'università e quindi sono direttamente a contatto con loro io insegno in diverse università ve lo posso assicurare difficilmente vi dicono che sono atei. Se Dio lo chiedete loro vi dicono no no io sono credente ma aggiungono sono credente a modo mio. Ecco cos'è l'individualismo. Cioè io credo in Dio però me lo immagino io come deve essere Dio. non accetto di avere delle diciamo linee guida da parte di altre ad esempio dai pastori dai vescovi dal papa eccetera perché io sono io che decide a che cosa a chi credere a che cosa credere così via. Questo è il grosso oggi limite dell'individualismo libertario che è cominciato circa 50 anni fa prima non c'era prima c'era un altro modello che era il modello del comunitarismo il comunitarismo è il contrario dell'individualismo cioè prima c'era l'idea della comunità cioè tu esistevi dentro una comunità la quale ti dava le linee stabiliva il confine tra giusto e ingiusto il vero il falso e così via oggi si è passati all'eccesso opposto dal comunitarismo all'individualismo e questo voi capite pone una grossa sfida alla chiesa perché per la chiesa nostra per il cristianesimo l'individualismo non può essere accettato nella formulazione che io ho rappresentato perché per il cristianesimo la figura centrale è quella della persona e voi sapete che differenza c'è tra persona e individuo perché la persona è un individuo che è in relazione con un altro infatti pensate al mistero trinitario cosa si dice nel catechismo tre persone uguali e distinte non si dice tre individui la trinità è formata da tre persone perché perché la persona postula la relazione il padre è in relazione col tiro col figlio il figlio con lo spirito lo spirito santo col padre eccetera quindi è chiaro che a livello nostro applicare questa idea vuol dire apprendere atto che il nostro vero nemico oggi è proprio quello infatti prima parlando con suor Teresa dicevo perché come si giustifica il calo delle vocazioni esattamente per questo perché non c'è calo di vocazioni nei paesi africani asiati perché lì in quei paesi il tarlo dell'individualismo non è ancora arrivato ma se si va avanti così arriverà anche lì perché è chiaro che accettare una vocazione religiosa non lo può accettare su un individualista e lo capite da soli perché la vita religiosa presuppone l'adesione ad una regola ma l'individualista non vuole le regole perché dice io decido quello che devo fare so io quello come mi devo comportare e così via questo quindi è diciamo il primo compito che spetta a tutti anche a chi non si occupa di economia perché è il presupposto per realizzare le trasformazioni quelle cinque trasformazioni di cui ho parlato poc'anzi e seconda è quella di ovviamente rivedere anche dentro la nostra vita di comunità cristiane tutta una serie di regole di funzionamenti eccetera bisogna arrivare lo so che questo è un tasto un po' delicato per essere ancora più esplicito per essere più esplicito chi mi conosce lo sa papo francesco si diverta a parlare con me perché io gliele dico le cose fuori dai denti e a lui gli piace questo bisogna che alla donne venga dato più spazio dentro la chiesa anche nella società dove vedete come sta ma anche dentro la nostra chiesa e qui non c'entra col discorso del sacerdocio femminile non c'entra niente non è che le donne o le suore chiedono i sacerdoti chiedono di avere un ruolo maggiore nel senso di assunzione di responsabilità e non soltanto un ruolo di esecuzione ma ma è possibile che le donne debbano essere considerate solo quelle che eseguono che realizzano le brave segretarie eccetera ma siamo mate ma non è questo non è questo il messaggio cristiano insomma non c'è bisogno che io faccia a voi una lezione di teologia questo è accaduto è un tradimento dello spirito originario e ripeto non c'entra niente con la questione del sacerdocio le donne non è che vogliono diventare sacerdote vogliono potere anche loro determinare assieme agli altri agli uomini le linee strategiche di intervento e non essere continuamente umiliate per eseguire del migliore dei modi le decisioni prese da altri questo ha degli effetti di ricaduta poi anche su un altro piano che è quello del ruolo del laicato e cioè il laicato nella chiesa deve contare di più per la stessa ragione il laico non può essere soltanto un esecutore e che purtroppo è così io sfido uno di mostrarmi il contrario non può dimostrare perché io porto i fatti perché conosco tutto vita, morte e miracoli delle situazioni cioè i laici ecco perché poi dopo i laici per realizzare loro stessi si devono portare fuori dalla chiesa e perché? perché non possono realizzare appieno il loro carisma ad esempio intellettuale dentro la chiesa e questo è il punto ecco quindi la seconda grossa sfida che è di fronte a noi e che è una sfida che io sono sicuro sarà affrontata e evidentemente risolta per concludere devo voglio concludere con riferimento al concetto del principio di responsabilità voi sapete che la parola responsabilità nella lingua latina ha due radici responsabilità deriva da rispondeo che vuol dire in latino rispondere oppure deriva da rispondus che vuol dire il peso delle cose rispondus è il peso allora questi due etimi hanno delle implicazioni molto importanti perché la nozione di responsabilità oggi dominante è la prima cioè rispondare risposta essere responsabili vuol dire rispondere delle azioni che uno compie io compio un'azione da questa azione derivano certe conseguenze e io rispondo di quelle conseguenze nella seconda sezione invece la responsabilità significa prendersi cura rispondus vuol dire il peso delle cose quindi responsabile è chi si carica sulle spalle il peso delle cose voi direte concretamente questo cosa vuol dire voi lo sapete ma è bello ripetere che è molto più grave il peccato di omissione che non il peccato di commissione perché i peccati di commissione ci vengono perdonati ma quelli di omissione che vuol dire che è più grave non fare il bene quando scende le condizioni di farlo che non fare il male commettendo errori perché tutti facciamo errori ma se io per non fare errori non faccio niente e invece non faccio il bene che potrei fare sono molto come dire pecco molto più gravemente ecco perché Don Milani vi ricordate Don Milani nella scuola di Barbiana cosa aveva scritto Ikea che in inglese vuol dire mi prendo cura oggi il tema centrale è quello della cura prendersi cura noi abbiamo troppe persone che non fanno il male rispettano le leggi rispettano le regole però non fanno niente di bene e allora bisogna avere il coraggio di andare giù molto duri come fa questo Papa perché abbiamo troppi sepolcri imbiancati troppe persone che si vantano di rispettare le regole di andare alla messa la domenica e fare i sacramenti eccetera ma che di fronte ad una situazione di bisogno di tipo materiale o spirituale non fanno assolutamente niente ecco perché nell'ultima enciclica fratelli tutti Papa Francesco esordisce con la parabola del buon samaritano il samaritano non era tenuto ad aiutare il malcapitato ma avendone compassione lo ha aiutato gli altri due che erano della sua stessa erano tutti giudei quindi della stessa come dire appartenenza etnica sono passati avanti chiaro che gli altri due non hanno fatto il male non hanno loro buttato giù il malcapitato ma non hanno fatto il bene ecco perché sono condannati non perché hanno fatto il male ma perché non hanno fatto il bene ecco quindi per concludere qual è l'invito che da diverse agonature questo Papa come anche i suoi predecessori ci trasmettono è più in generale la storia dei grandi santi della Chiesa e cioè che il grande santo non è quello che non commette errori tutti li commettono gli errori tutti perché il peccato originale ce l'abbiamo tutti che sia ben chiaro quindi avere il peccato originale vuol dire che si fanno gli errori ma non è questo il punto perché noi alla fine dei tempi saremo giudicati sul bene non fatto e che potevamo fare non tanto sugli errori o sul male che abbiamo commesso perché di questo chiedendone perdono ci sarà riservato il perdono il punto è in breve il seguente bisogna imparare a distinguere la povertà dalla miseria la miseria è la mancanza di beni e servizi che servono a soddisfare i bisogni fondamentali della persona la povertà invece è una virtù che vuol dire il distacco dalle cose povero non è quello che non ha le cose quello è il misero povero è uno che pur avendo le cose non si fa dominare da esso c'è un esempio molto chiaro nella regola di Francesco quando Francesco dice ai suoi confratelli voi nella maglia del convento dovete sempre tenere pane vino e formaggio voi non dovete però abusarne dovete prendere quello che vi è necessario e perché dovete tenere queste riserve perché se alla notte vi bussa qualcuno al convento che ha fame voi li dovete dar da mangiare e se avete la maglia cioè lo sgabuzzino chiamatelo come volete vuota cosa gli date? gli date le parole? proviamo a rispondere questo è il punto ecco perché i francescani sono stati i primi grandi economisti e la loro grande sfida è stata dimostrare che si può fare economia pur non avendo la cosiddetta proprietà comune scusate la proprietà privata avevano la proprietà comune perché la proprietà non è solo quella privata che è esclusiva ma anche la proprietà comune se noi siamo una comunità religiosa o non religiosa non fa differenza ma pensate una cooperativa sociale quella non è una vita religiosa però la cooperativa sociale ha un patrimonio che risulta dal concorso di quanti hanno contribuito ma i soci della cooperativa mica possono dire adesso io me ne prendo un pezzo e vado via no no nel momento in cui tu accetti di entrare metti in comune i tuoi i beni o i soldi a seconda dei casi che hai deciso di mettere nel patrimonio comune cioè questo è il punto fondamentale che molti pensano confondono la proprietà solo con la proprietà privata ma chi l'ha detto chi dice questo è uno che è incompetente che oltretutto non sa la storia perché in passato il codice giustinianeo nel quarto secolo non era diceva c'è la proprietà privata la proprietà pubblica e la proprietà comune allora ci sono certe attività che si possono fare in proprietà comune dove nessuno può dire questo è mio e escludo te ma ci sono delle regole all'interno di quella comunità che definiscono come si devono usare le proprietà comuni in questo senso noi abbiamo iniziative ma pensate un'università cattolica forse che non è un'attività economica altro che attività economica santo cielo pensate all'università cattolica di Roma dove c'è i gemelli un ospedale uno dei più avanzati ma andate a vedere il bilancio che ha forse che voi stesse non avete un'attività avete una casa editrice quindi avete il che vuol dire che quello che importa non è tanto allora avere la proprietà privata perché uno abbia un pezzo ma di fissare delle regole di governance si dice cioè di governo interno all'organizzazione che permettano di ottenere risultati di efficienza e quindi equilibranti pur all'interno di una proprietà comune in altre epoche storiche questo c'era anche del mondo laicale ma c'è ancora oggi voi andate in Trentino Alto Adige secondo voi i campi da sci dove si va a sciare quest'anno no che non si va a sciare ma dove si va a sciare secondo voi di chi sono? Sono del comune ma neanche per sogno sono di qualcuno ma neanche per sogno sono di tutti i trentini che abitano lì in quella zona in quella vallata cioè una proprietà comune e loro si sono date delle regole di gestione che si chiama gestione comunitaria e allora perché creiamo dei problemi per niente se loro e loro sono evidentemente avanzatissimi e hanno dei grossi risultati proprio perché hanno trovato il mondo perché se i campi da sci li do all'ente pubblico succede un disastro perché lui lo dopo amministra secondo gli interessi del gruppo politico che rappresenta se lo do poi a dei privati peggio ancora perché quelli poi ti impogono delle regole che impediscono ad altri di beneficiare eccetera ecco allora perché da adesso in avanti vedrete nel prossimo futuro che la gestione dei beni comuni acquisterà sempre più valore e sempre più e questo secondo me è un modo per rilanciare il ruolo delle comunità religiose che come ho detto all'inizio nei secoli passati hanno sempre svolto ma scusate i monasteri benedettini non sono aziende altro che aziende santo cielo hanno delle strutture organizzative avevano e producevano producevano e vendevano però ripeto la proprietà era della comunità nella sua complessa allora un chiarimento ed obbligo per svolgere attività di tipo economico social non c'è bisogno di essere economista che sia ben chiaro perché ma perché scusa San Francesco era un economista Benedetto era un economista Don Bosco era un economista e allora cioè bisogna capire che la parola economista è riferita agli studiosi di economia non a chi pratica pensate il mondo imprenditoriale ma scusate gran parte degli imprenditori sia qua in Europa che negli Stati Uniti all'inizio non sapevano niente di economia sapete non sapevano niente poi successivamente hanno acquisito la expertise dei tecnici che davano consigli ma l'imprenditore vero e proprio che non è il manager è uno che ha una vocazione e in questo caso la vocazione è di realizzare attività per migliorare la condizione umana allora per far questo non è che tu devi essere economista tu devi anzi devi è meglio che tu non lo sia come economista perché perché tu se vuoi avere il consiglio dell'esperto esperto in ambito finanziario in ambito fiscale eccetera lo vai a trovare e ce ne sono tanti però ci vuole sempre quello che come dire rompe gli indugi e cerca di realizzare le opere questo è il punto ma guardate l'esempio di Gesù perché Gesù ha lasciato Pietro ma Pietro era semi analfabeta sapete e gli ha dato in mano le chiavi sì o no ma perché perché vedeva che era un uomo d'azione poi è chiaro San Paolo San Paolo era molto più colto voi lo sapete aveva una grande cultura San Paolo però non aveva le stesse capacità di azione di Pietro quindi dobbiamo capire che nella chiesa come in altre realtà c'è una pluralità di carismi guai se avessimo tutti le stesse caratteristiche quello che è importante è che per agire nella realtà nel senso di mirare al bene comune non c'è bisogno di essere di essere economisti perché se io voglio aiutare ad esempio la gente che è ammalata mica c'è bisogno che io sia un medico sapete ci mancherebbe altro io vorrei dire che inizio una opera e per poi essere efficace vado io a cercare un medico che mi aiuti a realizzare la mia opera e così via quello che è importante è sentirsi questa chiamata a trasformare la realtà perché il compito del cristiano è il compito di trasformare la realtà tu vedi la realtà come sta andando cerchi di cogliere gli elementi di debolezza e di non accettare la logica dei laudatores temporis acti che in latino vuol dire quelli che dicono una volta non è vero niente perché la freccia del tempo per il cristiano è verso l'alto quindi chi guarda il passato e dice oh che bei tempi quelli del passato è fuori dal cristianesimo che sia veicchiare voi parlate con tutti i teologi e ve lo diranno quindi mai dire oh che belli i tempi del passato mai perché il presente è meglio del passato e il futuro sarà meglio del presente e questo dipende da noi dipende da quello se invece noi guardiamo lo sguardo indietro mia nonna mi diceva perché gli occhi li abbiamo davanti e non ce li hanno fatti dietro perché non dobbiamo guardare dietro dobbiamo guardare avanti e questo è la forza che ci deve spingere a migliorare la situazione ovviamente ci sono ma perché nel passato non c'erano le difficoltà c'erano e come erano di altro tipo ma c'erano anche allora quindi ecco quello che io direi bisogna che le nostre comunità cristiane quelle che si dedicano alla vita religiosa acquisiscano più coraggio coraggio di intraprendere e se questo avviene state pur certi che l'aiuto dei cosiddetti esperti ci sarà sempre però ci vuole chi prende il coraggio con le proprie mani e si spinge avanti perché quando io vedo che nel mondo in cui vivo nella società in cui opero e vivo ci sono aree di bisogno e io non posso stare con le mani in mano o limitarmi soltanto a dire la preghiera ecco perché sono partito da Oret Lavora prega e lavora ma lavorare vuol dire non genericamente fare le cose lavorare vuol dire trasformare l'ambiente nel quale uno si trova calato e la provvidenza non fa mai mancare mai mancare l'aiuto necessario però bisogna che siamo noi a fare il primo passo ricordate sempre la parabola della moltiplicazione dei pani dei pesci ma secondo voi Gesù aveva bisogno che i suoi tirassero fuori i cinque pani i due pesci non lo poteva fare però lui cosa ha detto date di voi da mangiare e poi lui li ha moltiplicati cosa vuol dire vuol dire che il Dio il Dio cristiano aspetta che siamo noi a fare la prima mossa noi la facciamo e lui dopo ci viene ad aiutare io non ho mai visto nessuno ma insomma il vostro fondatore non ha fatto così ma guardate la vita di tanti santi a volte così io ho avuto la fortuna di avere da ragazzo un direttore spirituale che si chiamava Don Oreste Benzi di Rimini io sono nato adesso sapete che è in corso la beatificazione di Don Oreste e lui iniziava le opere senza niente non aveva neanche un soldo e io gli dicevo ma Don Oreste ma come mai come puoi iniziare ah dice vedrai arriveranno e sono sempre arrivati sono sempre arrivati i soldi per realizzare le sue opere perché se uno veramente vuol fare il bene inizia un'attività state pur certi che in un modo o nell'altro arriva poi l'aiuto necessario vi auguro veramente tanta gioia mi raccomando state in gioia essere in gioia aiuta molto aiuta molto aiuta molto a risolvere i problemi e voi sapete che la gioia non è la stessa cosa della contentezza la gioia è il contrario della contentezza perché contentezza vuol dire mettere dei limiti chi si accontenta gode cioè io mi metto il limite e dice io voglio arrivarsi mai il cristiano sa che la gioia è rivolta all'infinito perché noi dobbiamo tendere verso l'alto ecco quindi perché stare in gioia non vuol dire non avere le difficoltà o anche non soffrire si può soffrire però si ha sempre la percezione che arriverà il modo e il momento in cui quella difficoltà del momento sarà superata perché mai ci verrà a mancare l'aiuto di quella mano speciale che è la mano della provvidenza che è la mano che è la mano che è la mano Grazie.